Musica Allora, ci iniziamo a scaldare Oggi lavoriamo con le bende elastiche, quindi sia per le braccia che per le gambe Schiaccio, schiaccio, sento saltare Senza staccare i talloni, ma piede piatto Schiaccio, schiaccio, schiaccio Quattro Tre Due Uno Braccia su e giù Un, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, otto, sette, sette, cinque, quattro, tre, due, uno in avanti Un, due, tre, quattro, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, 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 uno Uno, e due, tre, quattro, cinque, quattro, sei, sette, otto, e ancora Otto, sette, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, uno, e sulle braccia Questa volta schiaccio, schiaccio Un, due, tre, quattro, cinque, cinque, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, Due, due, e uno Questa volta torsione, torsione, torsione Un, qui, due, qui, tre, piano, piano, quattro, cinque, sei, sette, otto, e ancora Otto, sette, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno Solo un braccio, otto, solo una torsione Quattro, cinque, sei, sette, otto, 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 sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cambio Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno Possiamo prendere la nostra benda elastica Teniamo sotto mano anche quella per le braccia Iniziamo con quella delle gambe Intensità Da IVI A XXIV A XXIV Passi e chiudo Passi e chiudo, passi e chiudo Non chiudete mai del tutto le gambette L'elastico deve rimanere sempre bello in tensione Perché così facciamo più fatica Un Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Braccia Avanti e indietro con energia Un Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Otto Ancora otto Sette Sei Cinque La Laura a fretta Quattro Tre Due Uno Rimango qui Gambe larghe E Sette Saltendo Ott Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Ancora Sedici Quindici Quattordici Tredici Gambe larghe Dodici Onci Dieci Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E Uno Passo Ancora Con le braccia Apre Chiudo Avanti e indietro le braccia Sempre Energia On Due Tre Giovanna sai che cosa? Appiattisci la benda Perché se no ti fa dall'accio omostatico Otto Puoi prenderla un pochettino più pesante Sei Cinque Quattro Tre Due E uno E ritorno Qui Gambe larghe Non si stringono Rimengono larghe 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 Si che fa malissimo Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Sette Sei Mi viene in caldo dal male Quattro Tre Due Uno Ancora Sedici Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sei Sette Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Ce ne erano ancora sedici mi sembra Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Passo Chiudo Come va? Posso chiudere un pochettino di più questa volta Quattro Tre Due Cinque E uno Ora avviciniamo un po' le gambe Che così riposiamo un po' gli abduttori Ski squat Qui Ski squat Ski squat Due Tre Quattro Cinque Sei Sette 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1. Visto che ci siamo riposati possiamo andare col jumping jacks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 6, 6, 5, 4, 3, ancora, per tutta la canzone, che ne dite? È talmente bella, che così, così non devo contare, possiamo solo ascoltare. Che ne dite? Siete contente? Continuo! Sono jumping jacks! Niente di più, niente di meno! C'è movimento! È il Francesco! Eh? Ah! Continuo! Non mi fermo! Dai dai che prima o poi finisce! Durava solo 3 minuti e mezzo! Dai dai, pensate alle vostre gambette! No, domani non sentirai nulla! Neanche dopodomani, prometto, prometto, neanche domenica! Beh, se lunedì siete acciaccate, martedì sarete in perfetta forma! Ok, purtroppo è già finito! Ora, prendiamo l'elastico leggero! Intanto, avvicinate un goccettino le gambe, di modo che l'elastico rimanga in tensione, ma non tiri troppo sugli abduttori, sull'esterno coscia! Cosa andiamo a fare? Teniamo un'estremità dell'elastico e alziamo lateralmente! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, braccio teso! Stiamo lavorando con le spalle! Devo proprio alzare lateralmente! L'arancione che cos'è? No, prendete più light! Light! Per quello che state facendo fatica! Light, light! Perché è medium! Intanto saltelliamolo, intanto che aspettiamo! Ok, parte opposta! Andiamo con 16! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Ricambio! Ricambio! E andiamo con la 16! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Stiamo! E cambio nuovamente! Vado! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Stop! Sentite le spalle? O le sento solo io? Li sentite tutti? Ora andiamo con i tricipiti! Teniamo sempre l'elastico da una parte e spingo indietro! 1, 2, braccio teso! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio parte! Prendiamo l'elastico, lo blocchiamo e spingo indietro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Ancora 16 e 16! Ancora 16 e 16! Si va! Va! 1, 2, 3, braccio teso! 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio parte! Blocco l'elastico con una mano e con l'altra vado! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Stop! Tutto bene? Sì! Come no? Eh? Un po' malino, no? Eh? Avanti! Come se fosse una freccia! Possiamo anche con i piedi pari! avanti! 1, 2, 3, ho un pugno, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Cambio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Cambio! 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 Con l'altro braccio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Stendo bene l'elastico! Stendo bene l'elastico! 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1! Stop! Come va? Benissimo! Lasciamo! L'elastico per terra e andiamo a lavorare ancora un po' con le gambe! Cosa andiamo a fare? Alzate laterali! Quindi, lato, 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 lato e intanto schiaccio! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1! E ora, come prima! Ma questa volta! Giro! Pian pianino! Giro, 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 giro! E dall'altra parte! 8! Sempre gambe ben divaricate! E ancora! Due volte! Uno da una parte! e uno dall'altra! Ok! Ma ora ci fermiamo qui e vado! Lato! Lato! Uno! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Cambio! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! Giro, giro! E gambe divaricate! Giro, parte opposta! Schiaccio bene! Schiaccio, 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 schiaccio! E! Ancora due! Ancora due! Ok! Giro! Stop! Passo e chiudo! Come va? Bene! Non brucia nulla! Quattro! Uno! Due! E! Uno! Stop! Togliamo l'elastico! Senza cascare! Che gambe leggere! E ci mettiamo un salto sul trampolino! Vedete voi se volete mettere! Addominali! Addominali! Lutti! Qui! Sporbiciate! Semplicemente! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Otto! Sette! Sei! Sette! Cinque! Quattro! Tre! Due! E uno! Appoggio i piedi e di crunch! Trocrancio! Otto! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Otto! Sette! Sei! Cinque! Cinque! Quattro! Tre! Due! E uno! Qui! Sulle gambe! Sporbiciate ancora! On! Due! Tre! Quattro! Sei! Otto! Otto! Sette! Sette! Sei! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! E crunch! Qui! Vado! On! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Gli ultimi! Otto! Sette! Sei! Cinque! Tre! Due! E uno! Stop! Ginocchi al petto! Rilasso! 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 Ora! Molleggio o salto come preferite! E intanto facciamo dei twist! 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 Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Otto! Sette! 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 Quattro! Tre! Due! Ancora! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Sette! Sette! Otto! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Due! E uno! Stop! Ora! Saltello! Qui! E intanto! So! 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 E! Due! Tre! Si può fare anche senza saltare! Tre! Quattro! Cinque! Se! Se! Sette! Otto! Sette! Sei! Cinque! Quattro! Tre! Opla! Che scappa! Due! e uno top senza saltare solo così se si vuole senza saltare d'accordo? però saltellando è più bello più difficile ma più bello allora inizio con la gambetta 1 2 3 4 5 6 7 8 e 8 7 6 5 4 3 2 1 top spallina davanti a noi e ruoto ruoto 8 2 3 4 6 8 8 8 7 6 5 4 3 2 e uno stop pallina dietro noi e cosa facciamo? salgo su e su 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 dietro su cingo indietro 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 singoli e su su singolo singolo 1 2 3 3 4 5 spingo tricipite 6 7 8 cambio parte 8 7 6 4 4 3 2 e 1 bicipite on scappa la pallina 2 3 4 5 6 7 intanto saltelliamo 8 così inganniamo il tempo 8 non si inganna 7 6 5 4 3 2 e cambio qui 1 2 3 4 5 altrimenti sul trampolino le braccia non si fanno mai 6 7 dicipiti 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 e 1 continuiamo a saltellare ma questa volta in alto 8 2 3 e 4 5 5 6 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 5 6 6 7 8 6 6 8 8 8 8 9 9 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 23 22 25 25 25 26 26 28 28 28 29 28 29 29 30 30 30 28 29 30 30 30 30 30 31 31 32 32 32 31 32 30 30 30 30 32 32 33 32 a disegnare degli 8, come? 8, 8, 8, quando però disegno l'8, schiaccio anche il tappeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio giro, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da una parte viene sempre meglio, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, stop, come va? Benissimo, saltando il saltello, continuo a saltellare, cosa andiamo a fare? dei jumping jacks, portando però la pallina di fronte a noi, o qui, per chi non vuole saltare, con la pallina però, e ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, mi fermo qui, pallina in alto, stabili, stabili, lato, su, solo da una parte, 3, 2, per i fianchi, 3, 4, 5, 6, 7, cambio parte, attenzione ai fianchi, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, e si riprendono, 1, qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, e 1, stop, letto, on, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio parte, on, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8, stop, come va? Tutto bene? 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 16, che dite? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, stop, ora facciamo, anzi, da qui, con la pallina che ci serve da peso, scendo e salgo giù, qui, 2, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce ne sono ancora? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e 1, cambio parte, qui, va, scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, gli ultimi, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, stop, tutto bene? Eh sì, andiamo sul trampolino questa volta, finiamo con gli addominali, mettetevi comodi, dunque, cosa andiamo a fare? Passo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupero. 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupero qui. Tutto bene? Sì Ora sempre con la nostra pallina Mettiamo la pallina dietro la nuca Crunch Crunch Su Due Tre Quattro Cinque La pallina fa sì che noi, gli addominali, dobbiamo tenere sempre contrasti Perché non ci appoggiamo mai al trampolino Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Sentite tirare Tre Due E uno Recupero Poco poco E via Un'altra serie Qui Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Oto Otto Sette Sei Cinque Cinque Quattro Tre Due E uno Stop Appoggio la pallina Strezzo portando le ginocchia al petto Dondo sulla schiena E qui Allungo Mento il petto Trotolo La colonna G Le spalle Stironi E poi sotto giù Bravissima Grazie a tutti